Il Paradisi delle Signore, Tram 9 aprile, Perico parla a Irene della minaccia di Alcide. Alfredo confesserà a Irene di essere stato ricattato da Alcide Rota nella puntata del Paradisi delle Signore 8, che andrà in onda su Rai 1 martedì pomeriggio, 9 aprile. L'anteprima spiega che il giovane deve prendere una decisione sul brevetto del cambio il prima possibile per aiutare Clara. Intanto Vittorio continua a pensare a Marta nonostante i suoi sforzi per distrarsi, e Tancredi propone a Matilde un progetto che coinvolga suo padre. Finalmente Maria incontra Vito e gli racconta la sua decisione, ponendo fine alla loro storia d'amore. Irene viene a conoscenza delle difficoltà di Alfredo. Sarà una giornata molto difficile per Alfredo poiché dovrà prendere decisioni riguardanti il cambio da lui progettato. Perico si confida con Irene e rivela che l'amico di Leonardo, Alcide Rota, l'ha ricattata per aiutare Clara ad affrontare i problemi che ha avuto durante la gara. Sebbene nel piano non sia specificato il contenuto della minaccia, poiché riguarda il cambio installato sulla moto di Clara, è probabile che Alcide chieda ad Alfredo di rinunciare al brevetto. Intanto Tancredi chiede aiuto a Matilde per realizzare il progetto del padre. La moglie accetta il marito senza conoscere le sue vere intenzioni. Qualche giorno fa Tancredi ha confessato a Umberto di aver avuto un'idea per riavere sua moglie e che questo progetto era solo un mezzo per riavvicinarsi a lei. La nostalgia di Vittorio e i pensieri di Marta e i ricordi del passato non danno tranquillità a Vittorio e lui continuerà a pensare a Marta anche se non vuole. Non sarà facile per Conti ignorare la sua ammirazione per la moglie, e il suo rapporto con Matilde potrebbe essere in pericolo. Piuttosto, dopo essere tornata da Parigi, Maria finalmente capisce i suoi sentimenti. Convinta di amare Matteo, la ragazza promette di parlare con Vito della sua decisione. Questo metterà fine alla storia d'amore di Maria con l'amantia, ma l'amantia non la prenderà mai di buon occhio. Il problema dell'arrivo di Matteo getta la vita di Maria nel caos. La storia d'amore tra Maria e Vito sembrava perfetta fino a pochi mesi fa, quando lui abbandonò addirittura l'Australia per evitare un esito disastroso per la futura moglie. Maria sembrava contenta dei piani del suo ragazzo a Milano mentre lavorava duramente per garantire la sua sicurezza in Italia. La vita di Maria fu però complicata dall'arrivo di Matteo Portelli, che riaccese la sua passione e più volte dubitò della sua sobrietà. Per molto tempo Maria represse i suoi sentimenti per Matteo, riducendoli a mera attrazione, ma poi si abbandonò a numerosi baci con lui. Quando Vito si accorse della confusione della sua ragazza, la lasciò senza esitazione. Soffriva così tanto che si chiedeva se volesse ancora l'amantia nella sua vita. Gli uomini allora perdonano Maria e tornano insieme, ma dopo essere partito per Parigi per qualche giorno, il giovane Puglissi finalmente chiarisce cosa vuole. Grazie. Grazie.